Se non ci pensiamo noi a pretendere dei cambiamenti e delle azioni dalla classe politica, la classe politica da sola non farà mai niente, perché deve essere conveniente ascoltarci e deve essere l'unica alternativa che non si può fare nient'altro se non ascoltare le nostre voci. Sono qui perché penso che ancora oggi, dopo due anni che manifestiamo, scendere in piazza sia il modo più forte che abbiamo per far sentire la nostra voce ai decisori politici e far intraprendere delle misure vere e concrete per sconfiggere la crisi climatica. Faccio parte del comitato S-Non e abbiamo deciso di partecipare a questa manifestazione come tutti i comitati uniti, tutti i comitati che combattono battaglie cittadine per luoghi che stanno venendo rubati dalla speculazione edilizia. Riteniamo che la gestione da parte del comune sia inadeguata rispetto a queste battaglie. Informare le persone e informare me stessa perché il livello di consapevolezza sulla crisi climatica è incredibilmente basso e il nostro ruolo come giovani può essere proprio fare rumore e interrompere questa quotidianità.